e bentornati qua ragazzi sul mio canale youtube ragazzi come state spero bene ovviamente come sempre prima di iniziare il gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione se vi va potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati in descrizione anche trovate i miei social tiktok e tant'altra roba ovviamente vi vado a spiegare ragazzi visto che mi è stato chiesto da alcuni di voi come scaricare e valutare le mod per farming allora per scaricare le mod ragazzi dovete andare su contenuti scaricabili per esempio in questo caso volete un trattore piccolo quindi mettiamo caso che voi volete questo same golden primo che mi è capitato fra le mani fate installa mod same golden 7085 giunta la lista dei contenuti da scaricare ok fatto perfetto ragazzi gli date ovviamente il tempo in base alla vostra connessione in base al vostro pc come fare insomma poi uscite da questa pagina uscite di nuovo andate su esc poi rientrate in farming quindi ragazzi aspettiamo un attimino che si carica farming perché ovviamente poi in base anche al vostro pc non so in base alle tempistiche vale questa valutazione ragazzi vale anche per console ovviamente poi ritornate ragazzi in contenuti scaricabili andate su same gold 75 85 fate valuta ragazzi andate scegliete le stellette che volete andare in questo caso vi consiglio di valutarle 5 quindi valutatele mod valutata con successo perfetto ragazzi allora fate carriera quindi nuovo salvataggio facile scendiete la mappa che volete in questo caso di default di default ce ne sono tre quindi fate conferma in questo caso voi sicuramente non avrete selezionato per la prima volta almeno non avete selezionato questa mod voi ci cliccate sopra con il tasto destro del mouse fate inizia aspettate che carica ci vediamo il timelapse insieme ragazzi quindi farò un per due a tra poco eccoci qua ritornati ragazzi dopo una volta che avete scaricato il tutto fate inizia ovviamente create il vostro personaggio vale anche per console vi ripeto quindi vale anche per lì fate conferma ovviamente il gioco vi da il benvenuto in questo caso salto skip il tutorial in questo caso vado a vedere se effettivamente la mod è attiva quindi andate in trattori andate fino in fondo scorrete la vostra lista mod eccolo qua ragazzi same golden 75 ovviamente lo compriamo quindi fate compra ok e adesso vi faccio vedere che effettivamente è nel gioco ragazzi dove sta eccolo qua come potete vedere nel gioco stesso di default c'è quindi non c'è altro da dirvi ragazzi se avete domande domande dubbi o cose da dirmi se magari mi sono dimenticato di dirmi qualcosa non esitate a farlo intanto proviamo anche la mod che mi lagga un po' è normale perché ho appena caricato il gioco ovviamente ci sta però comunque eccolo qua ragazzi potete vedere che il trattore è stato inserito ovviamente io vi lascio con la sigla finale ragazzi quindi per cui mi raccomando se avete domande dubbi o cose non esitate a commentare iscrivetevi a qualora non siete iscritti mi raccomando commentate per l'appunto se volete vi lascio con la sigla ragazzi e vi ringrazio per essere arriverti fino qua e se siete arrivati fino qua hashtag cipolla ciao ciao